Si sono conclusi a Mosca i mondiali di scherma che sono stati positivi per i colori italiani. Infatti l'ultima giornata ha portato il titolo della medaglia d'oro alle due squadre di Fioretto Azzurre. La doppia sfida è cominciata prima con le ragazze con Di Franziska, Enrico Batini e Bezzali che hanno battuto per 45 a 36 lo squadrone rosso al femminile lasciandosi poi andare in pedana per i festeggiamenti per scaricare l'attenzione. Il primo team si è confermato per la terza volta dopo Budapest e Kazan. Bene anche la squadra maschile dove Cassarabaldini, Garozzo e Avola hanno battuto i omologhi russi con il punteggio di 45 a 38 a termine di una gara molto combattuta. Gli azzurri del Fioretto sono tornati sul gradino più alto del podio dopo i mondiali del 2013.